Erano arrivati da Modena con un altro amico, i due bagnanti trovati morti in mare a Lido di Camaiore, ieri pomeriggio, nelle acque antistanti i bagni Paradiso e Abitone. I due sono stati identificati stamani all'obitorio dell'ospedale Versilia. Si tratterebbe di due residenti nel modenese di 62 e 63 anni. Una turista tedesca a ventenne, ospite di un'amica, in un appartamento del centro di Pisa, ha raccontato di essere stata stuprata da uno sconosciuto che l'avrebbe sorpresa fuori dal portone mentre stava rincasando. Il fatto risale al 10 agosto, intorno alle 19. In ospedale, dove è stata medicata, è scattato il codice rosa e la giovane ha presentato denuncia contro i gnoti per violenza sessuale. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri. E ora il Covid ha altri 1.246 positivi nella nostra regione, età media 52 anni e altri 10 morti nelle 24 ore in Toscana, secondo il rapporto giornaliero della regione. E sono trascorsi 78 anni dai giorni dell'eccidio nazifascista compiuto nelle frazioni di Stazzema. A parlare il presidente Mattarella, ricordando quel tragico giorno, l'orrore ha colpito le nostre terre, la nostra gente, a testimonianza degli effetti di ideologie perverse, nemiche, della dignità e della libertà delle persone. E sempre sull'eccidio di Sant'Anna di Stazzema è intervenuta anche la presidente del Senato, Elisabetta Casellati, che ha detto L'eccidio di Sant'Anna di Stazzema rappresenta una delle ferite più profonde inferte dal nazifascismo al nostro paese. Quella mattina del 12 agosto 1944, l'essenza stessa dell'umanità veniva violata dal massacro di 560 vittime civili inermi, tra cui anziani, donne e 130 bambini. A 78 anni di distanza, la memoria di quella strage ci ricorda che il ripudio della guerra e della violenza è un dovere imprescindibile per la nostra Repubblica e uno dei pilastri su cui essa stessa è stata fondata. E sempre a proposito di Sant'Anna di Stazzema è intervenuto anche il sindaco che ha detto Bucia, Mariupol e altri luoghi di stragi disconoscono la persona umana, la sua dignità e i diritti inalienabili e rischiano di eliminare il progetto che si chiama Europa. La Guardia di Finanza, in due diversi interventi in Versilia, a Marina di Pietrasanta e a Forte dei Marmi, ha sequestrato oltre mille prodotti falsi di pelletteria e calzature, tra borse, cinture, accessori e scarpe con prestigiose marche. Tali prodotti sarebbero stati immessi sul mercato per un valore quantificato di circa 25 mila euro. E ora le prossime elezioni politiche. A fine settembre una lettera aperta al segretario del PD, dai segretari di 20 circoli di Firenze, proprio sulle candidature che interesseranno il territorio. E nella lettera si legge, ci appelliamo al segretario nazionale Enrico Letta, affinché si mantenga la determinazione a valorizzare candidate e candidati, espressione dei territori. La Toscana non è un granaio dei paracadutati e dei redivivi. Inoltre, dicono, confermiamo tutta la nostra fiducia e apprezzamento per Gianassi, Fossi e Bonafè, che sono possibili candidati, così come certificato dalle direzioni cittadine e metropolitana del PD. Siamo sicuri della loro qualità, della loro competenza e della loro capacità di rappresentare il nostro territorio. Le imprese turistiche toscane si preparano a un ponte di Ferragosto con un movimento abbastanza allineato agli anni del pre-Covid, ma con una minore propensione di spesa dei turisti. Lo sostiene Confesercenti Toscana, secondo i dati emersi da una recente immagine. E dal 12 al 16 agosto il tasso di occupazione delle camere sui portali online è del 93% contro l'85% dello stesso periodo del 2019, con punte del 97% per le località balneari. Il ladro maldestro ruba la borsa alla cliente di un ristorante a Firenze, scappa senza refurtiva, viene inseguito da un cameriere ma fa perdere le tracce, poi torna indietro perché nella concitazione ha dimenticato nel locale il cellulare e le sigarette. Così la polizia ha denunciato un uomo di 20 anni. È successo venerdì sera in un ristorante in Lungarno a Ciaiuoli. Ed è stato da poco domato l'incendio che ha interessato circa 3 ettari in località. Siamo nel comune di Castiglion Fiorentino, nella provincia di Arezzo. Le fiamme hanno minacciato da vicino anche alcune abitazioni, ma non ci sono state conseguenze grazie al lavoro dei volontari e dei vigili del fuoco. La zona peraltro è sede di numerosi agriturismi e soprattutto dal punto di vista del paesaggio è molto di pregio. E si amplia a Firenze la flotta dei monopattini in sharing. I nuovi mezzi saranno dotati di casco a disposizione dell'utente. E quanto prevede la delibera approvata dalla Giunta Comunale? Attualmente sono tre i gestori dello sharing dei monopattini, con una flotta complessiva di 900 mezzi, come riporta una nota Palazzo Vecchio, e ha deciso di aumentare il parco veicoli di 150 mezzi per ogni società, vincolando alla dotazione di casco per gli utenti. Tra le richieste è anche l'individuazione dei monopattini con casco, sempre tramite applicazione. E oltre 2 milioni di euro sono stati assegnati alle zone di stretto società della salute della Toscana per garantire la continuità e sviluppare ulteriormente il sistema di protezione dei diritti delle bambine e dei bambini, degli adolescenti e delle famiglie, finanziato grazie a risorse nazionali del Fondo Famiglia 2021. E torniamo a parlare del ferragosto, molti preferiscono trascorrerlo al mare, come da tradizione, quindi nelle due settimane centrali, cioè quelle che vanno dall'8 al 21 agosto, si concentreranno, pensate, le vacanze di 14 milioni di italiani e dei 22 milioni in viaggio in questo mese d'agosto. Emerge dall'osservatorio di Confcommercio in collaborazione con SVG e sono i dati rilevati tra agosto e ferragosto. Ora vediamo come sarà domani il tempo, sarà nuvoloso con possibili rovesci, soprattutto nella notte, sono brevi temporali, i venti sono settentrionali deboli, i mari poco mossi, mentre le temperature, le minime sono stazionari e le massime in aumento. Il telegiornale termina qui, grazie per averci seguito, buona serata a tutti e arrivederci. Grazie.